La Solovieva c'è il punteggio di 10-85, un punteggio severo ma che comunque rispecchia perfettamente un esercizio che assolutamente non è stato all'altezza della sua fama. E' la volta adesso di McKenzie Cacuato della Nazionale degli Stati Uniti, ricordiamo che è al primo posto momentaneamente nella classifica individuale, quindi grandissima attesa anche per questa ginnasta a stelle e striscia che sale ottimamente con una grandissima disinvoltura. Sì, la simpatica McKenzie è partita bene, sta facendo bene, una ribaltata senza mani, seguita dalla serie acrobatica indietro di Fixalto, guadagna una buono, con questi tre elementi acrobatici fatti di seguito. Una piruetta, diciamo così così, da un decimo di penalità più un declassamento di valore, una parte artistica così, di difesa. Gioco quindi coperta, come si direbbe nel calcio, McKenzie Cacuato ha mantenuto comunque l'equilibrio, sembrava lo stesso per perdere, anche se comunque questa figura non ha rappresentato al meglio forse le sue intenzioni. Ma era di grandissima difficoltà, anche se in apparenza no, ma un salto artistico con una rotazione di mezzo giro su una trave di 10 cm è una cosa di grande difficoltà, di grande valore. Sì, sta costruendo un ottimo punteggio di partenza e non sta accumulando grandi penalità, credo che, vediamo, non voglio essere come prima un cattivo profeta, ma credo che lei riuscirà a mantenere il primo posto. Buonissimo, doppio calcio finale, loro sono maestre nelle uscite, ne fanno ripetizioni in ogni allenamento, andate sul sicuro.